Hanno preso di mira alcuni locali pubblici tra la zona dei bastioni di Santo Spirito e quella di piazza di Saione. Hanno iniziato dai bastioni, dove hanno tentato di entrare all'interno di un bar pasticceria. Non riuscendo a rompere la porta di ingresso, hanno provato a trovare un accesso dal piano superiore, dove assiede il quartiere di Porta Santo Spirito, accesso che non esiste. Hanno lasciato alcune tracce, come pezzetti di vetro rotti e macchie di sangue sul pavimento. Quindi hanno proseguito verso via Montegrappa, dove hanno infranto la vetrata di un bar. Un tentativo che poteva avere conseguenze più pesanti. Nella prosecuzione del loro giro furtivo, si sono fermati in un ristorante vicino a piazza di Saione. Qui sono entrati all'interno. Vetrata sfondata, registratore di cassa strappato e alcuni dispositivi elettronici rubati. Qui però sono stati sorpresi e bloccati. Ha agito la polizia. Per bloccarli, anche dopo che sono stati condotti in questura, sono stati necessari i rinforzi. Sono stato chiamato a Luna dalla questura, che c'era stato un tentativo di furto, un tentativo di furto che poi è stato un furto presso il nostro locale. Fortunatamente tutta l'area furtiva è stata ritrovata, perché poi i ladri sono stati beccati proprio qua davanti dall'intervento della polizia. Sono entrati dentro sfondando un vetro e sono stati ripresi dalle telecamere, per cui ci sono tutte le prove di chi sono, abbiamo visto chi è e chi non è. Poi hanno portato via il registratore di cassa, alcuni palmari, che poi ci sono stati restituiti dalla polizia. Proprio qua davanti al locale, cioè a fianco del locale, hanno provato a aprire il registratore di cassa per prendere soldi, però la polizia è arrivata in tempo. In questo periodo di particolare difficoltà, di solito che cosa custodite all'interno dei locali? In questo momento qui c'è poca roba, voglio dire anche in cassa, lasciamo sicuramente un piccolo fondo cassa, non ci sono mai soldi. In altri locali ho sentito parlare che hanno portato via vino, hanno portato via prodotti, quasi sono preoccupati solamente del registratore di cassa, di alcuni palmari. Grazie a tutti.